... Serie numero nove in corso uno Elia Ornan alla due Daniele Di Cesare alla tre Tyler Saveon-Yeringa in quattro Andrea Bernardi alla cinque Jacopo Tozzola alla sei Sebastiano Lurve in sette Tommaso Dainese alla otto Giovanni Zattara Testa a testa serrato ma alla spunta Massimiliano Sacchetto con ventisei e sessantadue su Luca Buttarelli ventisei e sessantanove